Eccomi, allora qui possiamo dire che il cotechino e la lenticchia è cotta, ora vado ad impiattare così vedrete il risultato della lenticchia e il cotechino. Ecco, sto impiattando. Oh, grazie. Oh, mio Dio. Che cosa è? Allora tu e Brooke, hai parlato di Thomas? Sì. Sai, non sei molto, mi piaceva così. Già con Brooke e io ne stavamo discutendo. Credo che Brooke apporgi quest'idea di Nicola. Rob vuole adottare Douglas. Ecco qua, scusate il silenzio, ma l'ho concentrata nell'impiattamento. Ecco qua, come vedete il piatto è fatto. Lenticchia e il cotechino sono pronti per gustare. Questo sarà il piatto questa sera, già fatto in anticipo per voi. Va bene? Provate a fare questa ricetta. Io la faccio in questo modo, non so voi come lo fate. e buon pomeriggio a tutti. Alla prossima. Ciao.